Allora intanto ringrazio l'organizzazione che mi ha invitata, è un vero piacere essere qui, non solo perché si parla ma anche perché si ascoltano tutti gli altri, si vedono gli spettacoli, quindi è veramente bello. Il tema di oggi è l'antropologia e la danza e quindi nella prima parte affronteremo il tema dei rapporti tra queste due arti o discipline e vorrei cominciare proprio con un piccolo racconto relativo a qualcosa che è successo tantissimi anni fa, siamo in Mali nel 1935 e c'è l'etnologo francese Marcel Griol che sta assistendo alle danze della popolazione Dogon. La popolazione Dogon è una popolazione molto nota, nell'antropologia vedo segni di assenso tra il pubblico e Marcel Griol guidava una ricerca tra i Dogon. Marcel Griol conosceva molto bene le danze dei Dogon perché le aveva già osservate, conosceva molto bene le relative maschere che i danzatori indossavano. Ad un certo punto però ne vede una che non conosce. È una maschera che si siede su una sedia di foggia europea e invita due compagni a sedersi accanto. A quel punto tira fuori un taccuino e una matita e comincia a fare loro domande e a prendere appunti. I Dogon avevano inventato la maschera dell'antropologo. Questo incontro ravvicinato ci permette di riflettere su un elemento fondamentale di tutte le forme coreutiche ad ogni latitudine, cioè la loro plasticità. Le danze di tutto il mondo cambiano, si trasformano e soprattutto incorporano i mutamenti storici. In questo senso la danza è un'arte non solo del movimento ma in movimento. E infatti la sua capacità di essere un'arte viva dipende proprio dall'essere in grado di incorporare i cambiamenti, cioè di parlare di qualche cosa che interessa coloro che la praticano. Questa plasticità di solito però è riconosciuta alla nostra danza, cioè alle forme espressive euro-americane. Di fronte alla danza moderna, alla danza contemporanea, al balletto, noi in genere pensiamo che queste abbiano avuto un'evoluzione e siano cambiate nel tempo. Spesso si fa più fatica a riconoscere che anche le danze degli altri cambiano e si trasformano. Spesso queste danze sono concepite come fisse, immutabili, mai cambiate dalla notte dei tempi. Da dove viene questa concezione sulle danze degli altri? Per scoprirlo dobbiamo volgere lo sguardo al rapporto che si è creato tra l'antropologia e la danza fin dagli inizi. Io immagino un pubblico eterogeneo qui, quindi quelli che sono esperti di antropologia mi perdoneranno se dirò cose che conoscono benissimo. Come nasce l'interesse degli antropologi per la danza? Considerate che gli antropologi della danza oggi si occupano di tutte le forme di danza, non solo di quelle di altri paesi. Però all'inizio effettivamente l'antropologia della danza nasce nel confronti delle danze degli altri. Perché? Gli antropologi di fine ottocento, di inizi novecento andavano in giro e si accorgevano che nelle comunità che studiavano la danza aveva un posto importantissimo. Quindi anche se non necessariamente immaginate degli uomini dell'età vittoriana, non proprio dediti particolarmente alle attività coreotiche, benché non fossero particolarmente interessati alla danza, in ogni caso dovevano tenerne conto. E quindi fino agli anni sessanta noi troviamo nelle monografie di Malinowski sui trobreandesi, di Redcliffe Brown sugli andamanesi, di Evans Pritchard sulle azande, troviamo molte pagine dedicate alla danza. Però questa trattazione non è sistematica, è sporadica, è occasionale e soprattutto non ha, tranne alcune eccezioni, una metodologia consolidata. L'antropologia nella danza come disciplina nasce nel 1960, perché in quell'anno un'antropologa, Curat, scrive un articolo che per la prima volta sistematizza il piano degli studi, fa un panorama delle danze del mondo, suggerisce una metodologia e soprattutto impedisce che si continui a considerare la danza degli altri diversa dalla nostra. Cioè questa dicotomia viene abolita. In questo senso lei cita le parole di un suo corrispondente dicendo di sottoscriverle pienamente. Che cosa scrive questo corrispondente? A volte è difficile per persone appartenenti alla nostra cultura, nella quale la danza è stata relegata, uno, a spettacoli realizzati da artisti professionisti, e due, a strumento piuttosto meccanico grazie al quale membri di un sesso incontrano l'altra metà della popolazione, comprendere l'importanza della danza in quanto danza per i membri di altre culture. È necessario tuttavia, se tentiamo di descrivere una cultura, accordare alla danza almeno la stessa importanza che le attribuiscono i membri di questa cultura. Un'altra considerazione che fa Curat è la necessità di avere una formazione molteplice. Gli antropologi della danza, o forse sarebbe meglio dire le antropologhe della danza, perché nella grande maggior parte dei casi le studiosi sono donne, devono essere, secondo questa antropologa, sia danzatrici sia antropologhe. E in effetti questa auspicia della Curat si realizzerà, perché tutte le generazioni successive metteranno insieme le due competenze. La figura di danzatrice antropologa, per chi la conosce, è comunque stata raffigurata negli anni precedenti da Catherine Dunham, una delle grandi maestre di Alvin Aile, che era sia una danzatrice sia un'antropologa. Ecco, quali sono le preoccupazioni degli studiosi di antropologia della danza in questo periodo? Sono delle preoccupazioni che permarranno poi per sempre. Nel senso che una delle principali preoccupazioni, per esempio, è quella di non, come abbiamo detto, non dicotomizzare. Le danze sono tutte uguali, hanno tutte uguali dignità di studio, non ci sono danze più importanti di altre. In questo senso, alla fine degli anni Sessanta, esce un articolo che è una bomba e si chiama Un antropologo considera il balletto una danza etnica. Questo articolo è stato scritto in modo, con un titolo provocatorio, e volutamente rivolto ai non addetti ai lavori, a tutti. Che cosa dice l'antropologa che scrive questo articolo? Se per danza etnica intendiamo una danza che riflette i valori culturali della società che la produce, allora anche il balletto è una danza etnica. Noi quando pensiamo alla danza etnica, a tutt'oggi pensiamo alla danza indiana, alla danza africana, forse al tango argentino, magari al flamenco, no? Come facciamo a accorgerci che in realtà tutte le danze sono etniche? In questo senso, dell'antropologia si dice che rende familiare ciò che è strano e strano ciò che è familiare. Cosa vuol dire? L'antropologo si reca in luoghi lontani, scopre che ci sono delle pratiche, delle istituzioni e delle danze, e le osserva, le comprende, le spiega e quindi le rende più familiari. Ma questa è solo metà del lavoro dell'antropologo, perché quando l'antropologo torna a casa, ha studiato cose diverse e rende strano ciò che è familiare, cioè guarda le proprie istituzioni, le proprie pratiche e anche le proprie danze con uno sguardo diverso, le relativizza. Riflettiamo insieme in che senso il balletto è una danza etnica. Innanzitutto, vedendo lo spettacolo di Virgilio ieri sera, lo abbiamo visto in un teatro. Un teatro che prevede che il pubblico stia di fronte. Già questo è culturalmente determinato. Altrove c'è una circolarità e gli spettatori siedono intorno. C'è una separazione tra il pubblico e il performe. Il pubblico paga. Il pubblico applaude. Solo in certi momenti ci si chiede anzi, sarà il momento di applaudire? Anche questo è culturalmente determinato. Gli artisti africani che vengono in Europa molto spesso rammentano come sia estremamente difficile capire se lo spettacolo sta piacendo o no, perché il pubblico non reagisce se non alla fine. Quindi solo alla fine si può scoprire se lo spettacolo è piaciuto. La durata dello spettacolo in Asia si va avanti tutta la notte, molto spesso. Qui abbiamo un format che va dalla una alle due ore. Beh, per non parlare ovviamente dei contenuti delle storie. Non sono storie che raccontano dei dalla testa di elefante, presi dal Mahabharat o dal Ramayana, ma sono storie di principi e principesse. Il tipo di flora e di fauna, no? Tutto racconta della nostra cultura. C'è una sovrabbondanza, per esempio, di cigni e di cavalli nel balletto classico. Le punte, ma anche l'aspetto fisico dei danzatori, un tema su cui l'antropologia della danza oggi lavora moltissimo. Il corpo del danzatore è culturalmente determinato. Noi abbiamo un'immagine di magrezza, una dimensione in fondo paradossale se pensiamo che una ballerina classica deve avere una muscolatura molto sviluppata, una capacità fisica enorme per rendere l'idea di un corpo disincarnato, etereo, in un certo modo. Infine, un aspetto che viene colto molto dalle persone che non appartengono alla tradizione del balletto classico è lo scandaloso rapporto che si stabilisce tra i partner della danza. Cioè, in fondo, un uomo prende una donna per le cosce e la solleva. In molti paesi questa è una cosa assolutamente scandalosa che si possa operare in questo modo. Quindi, questa è stata una delle preoccupazioni. Smettiamo di distinguere e consideriamo il balletto come una danza etnica. L'altro grande capitolo su cui è lavorato l'antropologia della danza è la critica ai manuali di storia della danza. Chi di voi ha letto dei manuali di storia della danza sa molto bene che c'è un forte accento evoluzionista. Non oggi, magari, ma in passato era così, il primo capitolo, in genere, è dedicato alla cosiddetta danza primitiva. Come facciamo a sapere come ballavano i nostri antenati? Qual è la strategia per capire le loro forme di danza? Beh, è semplice, c'è scritto in questi manuali. Noi guardiamo come ballano gli africani oggi, guardiamo come ballano gli aborigeni oggi e quindi abbiamo una rappresentazione di come erano le danze dei nostri progenitori. Ecco, questo è un principio evoluzionista, errato. Tutte le culture sono cambiate, si sono trasformate. La danza degli africani di oggi non è una danza primitiva. Per le docenti di storia dell'antropologia della danza che lavorano in Africa, è anzi molto imbarazzante spiegare questo ordine dei manuali. Quindi, ad esempio, le danze dei Dogon del Mali sono state utilizzate per immaginare come fossero le danze di un tempo e addirittura alcuni grandi artisti come Orton e altri artisti neri americani sono stati usati, le loro foto sono state usate nei capitoli che parlavano della danza primitiva. Questi pregiudizi, in senso stretto, forse oggi non ci sono più, però l'atteggiamento non è del tutto cambiato, nel senso che le forme espressive, considerate inferiori, forse non esistono, ma ci sono rimasti degli stereotipi, abbiamo ereditato degli stereotipi sulle danze degli altri che sopravvivono. Forse il più classico di questi stereotipi è l'idea che gli africani e i neri in generale abbiano la danza nel sangue. Un'espressione che spesso viene rivolta come se fosse un complimento, una asserzione positiva. Piace ai danzatori africani questa definizione? No, i coreografi africani si ribellano contro questa interpretazione, sono costantemente alla caccia di metodi per scongiurare questo modo di pensare il loro lavoro e anzi ci sono coreografi e artisti africani che sottolineano che gli africani non hanno nessun cromosoma della danza in più. Perché questo tipo di concezione ha delle gravissime conseguenze. La prima, forse ovviamente riscontrabile, è che non si riconosce il grande lavoro che un danzatore fa. Cioè se è già capace per natura tutti gli sforzi che ha prodotto per raggiungere un certo livello di competenza naturalmente non valgono nulla. E questo ha influito nella storia della danza nera americana perché i neri spesso non avevano per esempio le borse di studio perché non c'era bisogno. Spesso nella storia della danza nera i ruoli a cui erano avevano accesso i danzatori neri erano solo quelli adatti a loro. Quindi potevano fare gli africani ma non potevano fare altre danze. Quindi quest'idea che la danza sia nel sangue è un'idea che è stata combattuta e che va tuttora combattuta e che rimanda a un concetto di naturalità del corpo. Allora voi mi direte ma insomma gli africani adesso stiamo usando questa categoria in modo generalizzante gli africani non sono più bravi a ballare? Beh, possiamo volgere in questo modo la questione. Non esiste nessuna predisposizione naturale alla danza esiste bensì una predisposizione culturale. È chiaro che ci sono ambienti in cui si cresce in cui alla danza viene attribuito una grande importanza e soprattutto in cui si pratica moltissimo la danza. È chiaro che ciascuno di voi se fin da bambino fosse stato abituato fin dalla pancia della mamma in seguito nelle occasioni sociali e rituali a danzare diciamo che una buona percentuale di voi non tutti perché sennò i coreografi africani mi negano la mia affermazione avrebbe sviluppato delle competenze ma anche nelle culture in cui questa pratica è diffusa si ritiene che ci siano persone più capaci delle altre più competenti e più brave. Già Marcel Mauss ci ricordava la dimensione della costruzione culturale del corpo e questa costruzione culturale del corpo vale ancora di più per la danza. Infine per chiudere questo argomento l'altro problema relativo alla naturalità delle danze africane è che se sono naturali sono anche semplici. c'è stato un mancato riconoscimento della complessità delle forme coreotiche delle popolazioni considerate diciamo così primitive e invece gli antropologi nelle loro analisi etnografiche hanno rivelato l'alta complessità la non spontaneità l'estrema codificazione ci sono danze che vanno bene per un certo rituale con una certa musica non vanno bene per altri no? non c'è niente di spontaneo. Infine la ricerca dell'autenticità dire che queste danze sono naturali porta con sé l'esigenza di immaginare che siano autentiche vere che quindi non siano cambiate. In questo senso sempre per tenere come traccia i Dogon ricordo un aneddoto che mi ha insegnato Marco Haim un aneddoto nel quale si ricorda come vi ricordate siamo partiti in Mali nel 1935 Marcel Griot vedeva una cerimonia funebre una cerimonia funebre che si svolge solo periodicamente ecco un danzatore interrogato oggi sulla stessa cerimonia funebre fatta per il padre spiega quando ho danzato alla cerimonia di funebre di mio padre anzi quando danzo per i turisti io danzo a piedi scalzi perché loro si aspettano che un autentico africano danzi a piedi scalzi ma quando ho danzato per la cerimonia funebre di mio padre avevo le mie adidas no? quindi ciò che noi pensiamo come autentico non è quello che succede nella vita reale quindi questo problema dell'autenticità della trasformazione negata è un tema che attraversa tutte le forme coreotiche e per concludere vorrei fare un esempio relativo alla mia esperienza etnografica benché fino adesso abbia parlato di Africa io in realtà ho lavorato in Asia cioè in particolare nello Sri Lanka e ho studiato le forme coreotiche dei tamil dello Sri Lanka come sapete nel 2009 si è conclusa la guerra tra tamil e singalesi i tamil sono stati sconfitti ma c'è un enorme diaspora tamil nella diaspora tamil si usa moltissimo la danza Bharatanatyam chi di voi la conosce e chi di voi non la conosce è molto facile che vedendo della danza indiana abbiate visto della danza Bharatanatyam è una tecnica di danza del sud dell'India che è legata al mondo delle danzatrici templari le devadassi delle donne che erano dedicate ai templi danzavano in onore degli dei e quindi il repertorio del Bharatanatyam è un repertorio che racconta le storie delle divinità della devozione nei confronti della divinità degli scherzi che si combinano gli dei tra di loro sono dei molto capricciosi molto scherzosi questi dei indiani ebbene i tamil della diaspora usano la danza Bharatanatyam anche per raccontare queste storie ma la usano anche in un altro modo la usano per raccontare soprattutto ai bambini che praticano la danza la guerra che c'è stata nel loro paese come si fa a raccontare una guerra che ha bombe elicotteri mine mitra con una danza che parla di templi di Shiva e di Ganesh semplicemente trasformando i gesti quindi le mudra classiche cioè i gesti delle mani sono state trasformate il loto è diventato la bomba sono stati inventati i gesti per indicare elicottero manette combattente e in questo modo la danza dei tamil dello Sri Lanka è rimasta un'arte viva ha profondamente incorporato la storia e in questo modo la trasformazione è stata resa particolarmente evidente poi nella seconda parte se volete potete fare delle domande su questo adesso passiamo a parlare con Virgilio grazie allora innanzitutto questa scelta di metterci insieme è ovviamente derivata come sapete dal fatto che tra i danzatori che hanno tratto ispirazione dell'antropologia Virgilio Sieni in Italia penso che sia tra gli unici in particolare ha messo in scena liberamente tratto dal libro omonimo di Levi Strauss Tristi Tropici che stasera alcuni brani in teatro saranno letti da Tony Servillo quindi la prima cosa ovviamente da chiedere è di parlarci di questa ispirazione che ti ha dato l'antropologia per questo lavoro coreografico molto bene salve a tutti al solito è abbastanza desueto per me trovarmi in un tavolo coreografico così disposto prima si parlava di separazione tutta la patologia del teatro occidentale nei confronti di una predisposizione conica per cui una fuga manco simmetrica insomma ecco una fuga così su un piedistallo sul palcoscenico e comunque anche la nostra disposizione al dialogo come vedi presuppone tutta una serie di cesure di interruzioni di soste bottiglie segnaletiche tavoli spazi durate tempi fino ad arrivare con molta fatica con molta fatica ad arrivare al agli altri no? e già questo devo dirvi crea un certo imbarazzo quando per la prima volta ho pensato di così di lavorare su tristi tropici in effetti venivo già da un periodo di così di studio sul De Laerum Natura di Lucrezio che ho messo in scena grazie all'aiuto anche di Giorgio Agambe con il quale abbiamo collaborato alla stesura di tutta la drammaturgia e alla traduzione insieme a lui di molte parti del De Laerum Natura soprattutto quelle che riguardano la la critica al finalismo di Lucrezio e quindi in principal modo ad un aspetto per me estremamente attuale che è quello della destinazione della funzionalità del corpo umano Lucrezio dice a un certo punto sì gli organi non sono stati creati per la funzione finale che poi hanno assunto in effetti devo dire la verità negli ultimi anni ho lavorato spesso con alcuni ragazzi ciechi anzi particolarmente con un ragazzo con Giuseppe che ho l'intenzione di farlo diventare un danzatore e mi sono accorto che a un certo punto lui girava la pupilla per per fare certi movimenti e non certo per guardare a un certo punto la ruoteava molto forte molto velocemente e ho chiesto ma che succede a cosa ti serve e lui mi dice no sto meglio in equilibrio beh questo rapportandolo a Lucrezio mi dico certo lui ha dato una destinazione a quell'organo totalmente diversa rispetto a quello che è no la nostra vista e così via se poi immagino e guardo per esempio c'è un bellissimo video di Douglas Gordon sulla la convalescenza di un la riattivazione degli arti inferiori di un militare della guerra 15-18 è un video insomma che lui ha alluppato e tutto e quindi in cui si vede questo militare in convalescenza che cerca appunto di risollevarsi da terra utilizzando tutta la parte superiore il tronco le braccia le spalle le smorfie il collo cerca di riutilizzarle in una maniera ovviamente totalmente diversa dal solito passi per il primo giorno ma già nel ventesimo giorno si comincia ad intuire una maestria nell'utilizzo degli arti superiori come se quest'uomo ad un certo punto ha incominciato ad apprendere a riapprendere un utilizzo diverso possibile degli arti superiori e quindi uno dei nodi fondamentali nuovamente è come mi piacerebbe dire spesso è quello di riconsiderare il corpo umano sempre come un corpo da riattivare in una forma diversa trovare altro da quello che è cioè eluderlo azzerarlo rispetto a tutte quelle che sono una serie di strutturazioni stabilite posture e quindi attraverso una serie di pratiche individuare quelle che sono le attivazioni altre quindi la strada per arrivare a tristi tropici è stata apparentemente legata ad un'idea quasi indicibile mi riferisco forse all'ultimo momento del del saggio di Levi Strauss quando appunto individua nella indicibilità dell'atteggiamento umano qualcosa che forse con speranza ci può salvare da tutto quello che è invece uno spostamento un'agonia che ha portato alla completa distruzione e la scomparsa di quelle tribù che lui tanto aveva visitato e che ci trasmette attraverso un atto nostalgico molto caloroso quindi questa vicinanza questa dimensione indecibile che ci appare come spostamento dell'uomo verso un qualcosa di estremamente legato non ad un tempo statico ma ad un tempo eterno ad una ion ad un qualcosa che è una forza vitale ad un qualcosa che oltre da noi è stata ecco la prima cosa che mi ha indotto a lavorare su tristi tropici nonché alcune accensioni così abbastanza così uniche rispetto alla missione perduta dall'occidente di diventare femmina che a un certo punto lui annota in maniera molto dettagliata in tristi tropici e dopo aver fatto tutto un percorso rispetto alle religioni cristianesimo eccetera eccetera a un certo punto individua in questa dimensione cosmica ma quasi cosmogonica individua questa missione perduta quindi tutto questo mi ha portato alla messa in scena ai tristi tropici ecco dicevi che avevo utilizzato anche molto il concetto di bricolage bricolage in che modo beh bricolage o bricolère qui c'è questo bellissimo saggio scritto da Giorgio Agambe per il settantesimo anniversario della morte di Levi Strauss ora non mi ricordo esattamente il titolo però qui proprio parla del bricolère cioè a dire la capacità di sbriciolare quasi disattivare delle funzioni sbriciolarle e riattivarle in una maniera diversa beh in che senso posso fare un esempio forse sulla danza apprendendo tecniche quindi percorrendo delle esperienze e quindi accumulando e stratificando tutta una dimensione legata al ricordo e tutto quello che poi uno vorrebbe far coincidere in un elemento consapevole che comunque è un elemento consapevole che si rivolge a una momentaneità perché nel lato di creazione in fondo c'è un momento epifanico che accade in quell'attimo che dà origine ad un primo gesto ad un primo passo ad una concatenazione che poi fa nascere la questione della dinamica ecco in tutto questo cosa accade a me piace pensare che accade come un un gioco di sbriciolamento di tante funzioni tante funzioni che in origine hanno una loro destinazione e che attraverso una loro riconsiderazione un rimetterle insieme un rimescolarli appunto si riesce a trovare una loro un loro destino diverso e quindi un po' come reimparare un po' come reimparare a camminare provare no? ad attraversare lo spazio in una forma diversa ecco quindi l'atteggiamento dei bricolè forse ci aiuta ci aiuta continuamente in ogni istante a riconsiderare tutto quello che si è sicuramente già strutturato no? a riconsiderare anche tutto quello che è tutto quello che è la tecnica la codificazione delle tecniche no? e tutto quello che può essere dal nostro punto di vista anche un processo mnemonico legato alla creazione sbriciolare riattivare rendere il tutto in un arcipelago no? di segni e in quel momento lì cercare di cadere in una forma quasi che ha un senso però è una forma quasi incontrollata perché sfido chiunque a rendere a essere consapevoli nel percorso esatto delle articolazioni in un gesto così e a dirmi esattamente quali parti del corpo ho mosso se non 120 centrotentra forse ho iniziato forse da dove è nata l'origine di questo movimento eh? forse rifacendolo posso dire che tutto parte da un da una parte pelvica che cresce lungo la cassa toracica beh certo c'è un'idea molto ampia del movimento per quanto mi riguarda che riguarda dei piani orizzontali che si rifanno ad una visione molto ampia del corpo ti hai parlato di danza indiana quindi potrei associare anche a tutta una dimensione di chakra cioè a dire di ampie zone che vanno oltre il corpo certo il movimento si origina da un qualcosa di molto ampio fino a diventare una forma metrica un cronos molto chiaro giusto? eh se lo faccio lento è chiaro che c'è qualcosa che no? però se lo fai nell'istintualità del gesto sfido chiunque poi a farlo e a seguire razionalmente quello che ha caduto è impossibile però è possibile percepire un senso di questo questo senso con la pratica mi aiuta poi ad avere la memoria ad avere la memoria di questo gesto che me lo ricordo nel suo senso e quindi lo ripercorro se in una forma rigida penso di ripeterlo immediatamente pensando al passo pensando al perimetro pensando all'esteriorità per me è impossibile questa memoria quindi devo ricondurmi a un senso molto più ampio ad una ion ad un tempo molto ampio ad un cronos così metrico e stretto ecco in questo senso intendo il bricoler colui che riesce a sbriciolare questi attimi quando si parla di antropologia della danza alcuni autori in realtà non ci si ritrovano pensano che la definizione antropologia o etnologia della danza sia limitativa alcuni autori preferiscono antropologia del movimento e dentro a questa categoria mettono altre cose ad esempio le arti marziali ma anche il linguaggio dei segni ecco volevo chiederti in che misura questo tipo di esperienze ad esempio le arti marziali hanno influenzato il tuo percorso e anche il riferimento alle danze degli altri in un certo modo la danza indiana in che modo ha influenzato il tuo lavoro arti marziali sia l'unica l'altro beh eravamo ragazzi quando abbiamo iniziato l'aikido e quindi in una forma come dire giocosa del corpo ho iniziato a praticare le arti marziali perché c'era già un avvicinamento una fascinazione verso tutto quello che era un'idea del corpo eccetera qualcosa che si riferiva all'energia ad un percorso ad una via al Tao diciamo così quindi l'avvicinamento è stato molto legato anche ad un sentire per me importante certo tutto questo ha segnato sicuramente tutto il percorso che ho fatto ma che dire tutto quello che è stato comunque un'avvicinanza è piano piano un prendere coscienza delle danze degli altri dei balli degli altri del teatro degli altri cioè ha fornito non degli elementi così sporadici ha fornito esattamente un'ossatura uno scheletro molto forte un qualcosa che sentivo appunto che si sbriciolava dentro tutto quello che era invece lo studio delle mie tecniche sia per quanto riguarda anche una pratica legata all'utilizzo del corpo che si apre verso l'apertura nel balletto si dice l'an de or ma nell'arte marziale non si dice l'an de or ovviamente tutto quello che era un'apertura verso uno a e ovviamente e nelle forme per esempio nelle forme pseudo attuali della danza invece è diventato uno voi pensate a tutta l'evoluzione del corpo umano che parte da un'idea di apertura e da qui si origina anche l'apertura trasfigurante del balletto classico fino ad arrivare nel corso del tempo con la modernità la contemporaneità fino ad arrivare ad una chiusura i piedi piano piano nella danza moderna sono diventati paralleli poi piano piano nella danza e si arriva quasi alla danza dalle danze buio giapponesi che sono con i piedi leggermente con il perimetro esterno leggermente il perimetro esterno dei piedi parallelo che vuol dire la percezione che il piede è leggermente rivolto andedà fino ad arrivare alla danza butò la danza delle tenebre che i piedi sono completamente implosi rivolti verso l'interno quindi pensa a tutto quello che è invece la costruzione del teatro no giapponese quindi dell'arrivare in scena del personaggio il suo presentarsi attraverso una dinamica di spazi una passerella un palcoscenico predisposto secondo un suono una metrica del suono una rumoristica sotto il palcoscenico del teatro no ci sono tutta una serie di di anfore di 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 vasi risonanti per cui il danzatore l'attore che calpesta e batte perché la danza è molto ritmica è molto battuta è molto percussiva che batte sul palcoscenico origina dei suoni a sua volta quindi tutto questo evidentemente nel corso del tempo soprattutto all'inizio si è riversato nel mio lavoro e l'ha ha noturito ecco non possiamo non fare una domanda sullo spettacolo di ieri sera perché in fondo tristi troppi c'è stato fatto a Firenze qualche giorno fa e ieri sera ad un certo punto tu hai chiamato una persona del pubblico sul palcoscenico io ho avuto l'idea che fossi stato anche molto fortunato perché questo è stato proprio bravo e nel momento in cui tu gli guidavi i movimenti tenendolo rilassato a me è venuto inevitabilmente in mente un passaggio di Margaret Mead che aveva studiato le danze balinesi e nel 1942 descrive la differenza nell'apprendimento del movimento corporeo non solo della danza in generale dice imparare a camminare imparare i primi gesti appropriati per suonare strumenti imparare a mangiare e a danzare sono altrettante attività compiute col maestro che posto dietro l'allievo gli comunica direttamente per mezzo di pressioni e quasi sempre con un minimo di parole il gesto che deve essere compiuto con un tale sistema di apprendimento si può imparare solo se si è totalmente rilassati non so che cosa ci vuoi dire di questa modalità d'accordo che vuol dire rilassati che significa voglio dire essere rilassati perché sicuramente anche ad una persona che non pratica la danza gli insegno per esempio uno spostamento uno spostamento di oggetti secondo una metrica di piccoli gesti così insegno solo questo e glielo insegno cosa significa insegnare questa cosa significa semplicemente insegnare un qualcosa legato ad una ripetizione o cercare in ogni spostamento in che maniera portare la persona a questo percorso in quale maniera portarla a questo percorso se non attraverso tutta una serie no di sospensioni di sospensioni quindi il rilassamento sta nella capacità di penetrare di penetrare queste sospensioni quindi portare fuori da te tutto quello che è un tuo un tuo ego e quindi di proiettarti completamente in quella che è l'azione la memoria dell'azione nasce nella consapevolezza esatta di un percorso no non tanto su un in una forma ansiogena del ricordarsi quello che viene dopo sto facendo questo ma cosa sta cosa deve arrivare dopo e quindi c'è una perdita no entri in una dimensione di appunto di ansiogena e quindi tutto questo ti sposta su un altro livello no mentre il problema la questione è esattamente quella di vivere in quel momento il che tenunque quello che sta accadendo e quindi il percorso va fatto in un estrema rilassamento si intende esattamente quando il respiro no trova una sintonia esatta con la dislocazione degli organi ma soprattutto con tutte le cesure che la colonna vertebrale ci pone nel momento in cui una persona è chiaro fa una fotografia tutto storpiato così è chiaro che la fotografia non può che assumere dentro lo scatto l'estetica dello scatto sicuramente lo scatto che viene fuori no lo scatto che viene fuori è il riassunto di quella postura evidente non a caso io già Siro Ozu il regista giapponese ritornando a parlare di Oriente che ci ha regalato dei film memorabili esercitava il suo cameraman a posture sdraiate non mi ricordo come si chiamava il cameraman il cameraman era preparato come una forma rituale a stendere la sua stoia a preparare il corpo per questa discesa in terra con la camera è per questo che in tutte le riprese di Ozu sono così sbassate ci sa l'impressione che questa camera non ci sa l'impressione è realmente così non ci sia questo piano orizzontale adiacente a terra ma qui senti che c'è una preparazione rituale quasi sacra del cameraman di colui che si di colui che si e così è il percorso c'è una preparazione al percorso quindi il rilassamento invade in pieno tutto quello che è il senso di preparazione ad una prova io non ho da aggiungere altro anzi magari se ci sono domande domanda risposta volentieri prego qualcuno porta il micro e non ci sono avveni grazie Grazie.